Buongiorno a tutti, mi chiamo Biagio Goldstein-Bolochan e sono l'autore di La bella resistenza, l'antifascismo raccontato ai ragazzi. Ho scritto questo libro l'anno scorso sulla scorta di una riflessione e di un'immagine che ho visto alla televisione in un telegiornale. Era un pomeriggio di autunno, ero a casa con un po' di influenza e stavo guardando la televisione. Mi è capitato di vedere un'immagine terribile di una manifestazione neonazista per le vie di Varsavia, la capitale della Polonia. Probabilmente sotto l'effetto dell'influenza all'inizio mi è sembrato che le immagini che stavo osservando appartenessero a un documentario storico, cioè facessero parte della terribile storia del Novecento europeo. Poi guardando meglio mi sono accorto che quelle immagini invece erano immagini contemporanee e che quella manifestazione in cui migliaia di giovani con le teste rasate, le camicie nere marciavano con le loro bandiere con la svastica nazista per le vie di Varsavia erano immagini contemporanee. E allora la mia reazione è stata una reazione istintiva, una reazione di paura. Una reazione di paura che poi col tempo ho cercato di elaborare e ho cercato di trasformare in un'energia positiva. Cioè ho cercato di immaginarmi come potessi dal mio piccolissimo e modestissimo angolo di osservazione tramutare quella paura in un'energia positiva e trasformativa. Allora ho pensato cosa potessi fare? Ho pensato che potessi mettere a frutto la storia straordinaria della famiglia di mio padre, la famiglia Damiani-Golstein-Boloccan. Storia straordinaria come tante altre storie familiari, ma questa è la mia, è la mia storia, è la storia che sono riuscito a farmi raccontare da mia nonna prima che morisse nel 2000. Mia nonna era una grande affabulatrice, era una grande raccontatrice e io ho avuto la fortuna e l'intuizione insieme a mia cugina Valeria di farmi raccontare della nonna e di registrare i suoi racconti e di farmi raccontare la sua storia familiare. Perché questa famiglia, la famiglia Damiani-Golstein-Boloccan ha, secondo me almeno, un significato esemplare che vale la pena di essere raccontato? Perché è una famiglia che mette insieme due pezzi importanti della storia del Novecento italiana ed europeo. Da un lato una famiglia, la famiglia Damiani, dichiaratamente e fin dalle origini antifascista, cioè una famiglia che nel suo complesso, una grande famiglia milanese, che nel suo complesso dai più vecchi ai più giovani, dai genitori ai figli, decise fin da subito, fin dal 1922, di opporsi alla deriva fascista e totalitaria che dopo la marcia su Roma stava travolgendo l'Italia. Dall'altra parte, invece, l'altro pezzo della famiglia è la famiglia Goldstein-Boloccan. È una famiglia dell'Europa orientale, una famiglia ebraica dell'Europa orientale. Mio nonno, Alexandru, era nato nel 1905 a Baccheu, una città importante della Romania. mia nonna, Alessandro, che ha 17 anni, viene a Milano per studiare al Politecnico Ingegneria e in quella circostanza, in quell'ambiente, all'epoca molto ristretto, erano poche centinaia gli studenti del Politecnico, entra in contatto con la famiglia Damiani, con i fratelli di mia nonna, soprattutto con i primi due, Mario e Alberto, ne diviene amico, tramite loro conosce mia nonna, con la quale si fidanza e si sposa. E nasce questo nucleo familiare che per metà ha una spiccata identità antifascista, cioè assume posizioni che in quell'epoca, nell'Italia della seconda metà degli anni 20 e dell'inizio degli anni 30 erano posizioni molto scomode e molto coraggiose, per le quali si pagava un prezzo altissimo, e per metà ebraica. Nell'Italia di quell'epoca l'identità ebraica non era ancora un problema, lo diventerà nel 1938, quando le famigerati leggi razziali, o per meglio dire leggi razziste, colpirono una parte della società italiana, discriminandola pesantemente e costringendola ad una condizione di servitù. Famiglie, persone persero il lavoro, persero ogni forma di sostentamento, vennero umiliate, relegate ai margini della società. Nel 1938 la famiglia Damiani Goldstein-Bolochan aveva già conosciuto la sprezza e la durezza della repressione politica, i fratelli di mia nonna, la sorella maggiore di mia nonna, avevano già conosciuto le patrie galere, fin dall'inizio degli anni 30, fin dal 1930 erano stati coinvolti in attivitanti fasciste, clandestini, per le quali erano stati arrestati e processati. Quindi l'antifascismo della famiglia Damiani è un antifascismo precoce, è una forma di resistenza che fin dalle origini manifesta l'opposizione al regime. Con l'arrivo delle leggi razziali le cose peggiorano sensibilmente e con lo scoppio della seconda guerra mondiale la situazione deflagra completamente, mettendo la famiglia di fronte a una condizione estrema e alla necessità di assumere scelte estreme. mio nonno Alessandro, che era un ingegnere abituato a guadagnarsi la vita con le proprie forze, abituato a viaggiare per il mondo per lavoro, non lo può più fare, è costretto a lavorare con un prestanome in una condizione di abbruttimento morale e di grande umiliazione e in quei mesi drammatici dell'inizio della guerra comincia a maturare l'idea di abbandonare l'Italia, di espatriare e ovviamente la prima meta, la prima destinazione per mio nonno come per tanti altri ebrei, italiani ed europei sono gli Stati Uniti d'America ma è molto difficile raggiungerli e allora dopo l'8 settembre, dopo l'8 settembre del 43 quando la situazione diventerà ancora più pesante e i rischi diventeranno enormi in Italia, il nonno sceglierà la via dell'esilio e raggiungerà in modo fortunoso, roccambolesco e anche molto difficile la Svizzera e in Svizzera passerà oltre un anno e mezzo in un campo di raccolta dei profughi che da tutta Europa cercano di salvarsi la vita, un'esperienza umana durissima, tanto più che in Italia ha lasciato la moglie, mia nonna Emma e quattro figli, Lia la primogenita, Enia la seconda figlia, mio padre Andrea è nato nell'agosto del 1937 e il piccolo Marco, il più piccolo di casa che era nato nel 1940, quindi una famiglia lacerata, distrutta, una famiglia spaventata, una famiglia che ignora quale sarà il suo destino. Da un lato mio nonno abbandonato a se stesso in Svizzera, le prese con una vita molto dura che lo condurrà fino all'estreme, a una condizione di estremo disagio fisico e psichico, dall'altra una famiglia raccolta attorno a mia nonna e a quattro bambini, una donna abbandonata, abbandonata se stessa, che vede i suoi congiunti, i suoi cari entrare e uscire dalle carceri fasciste. Con lo scoppio della guerra la militanza antifascista dei fratelli Damiani si farà più importante e più impegnativa. I fratelli Damiani e Mario Alberto sono dirigenti di Giustizia e Libertà, Mario il primogenito sarà il segretario regionale Lombardo di Giustizia Libertà, frequentano l'ambiente del socialismo liberale milanese e militano pagando un prezzo molto alto. Nel 1944 Mario, il primogenito, insieme a suo padre Eugenio, il padre di mia nonna, cadono in una retata, vengono arrestati, vengono portati per qualche giorno a San Vittore, poi tradotti a Fossoli, il campo di smistamento vicino a Modena, lì conoscono la ferocia estrema della detenzione, perdono amici e compagni di lotta, mio bisnonno Eugenio comincia ad essere torturato e seviziato in modo orribile, viene continuamente esposto a docce gelate, ancora vestito ed esposto ai rigori dell'inverno, si ammala, viene trasportato insieme al figlio Mario nel campo di concentramento di Bolzano e lì muore, muore come recita il documento ufficiale per complicanze polmonari, in realtà muore per effetto delle torture inumane impartite gli aguzzini fascisti. Pochi giorni prima di morire mio bisnonno Eugenio saluta il figlio Mario che viene caricato su un treno piombato con destinazione Mauthausen, da Mauthausen, Gusen, lo zio Mario non farà più ritorno. Quindi mia nonna Emma rimane in Italia alle prese con i problemi della sopravvivenza materiale, della gestione di una famiglia con quattro bambini piccoli sfollate in un piccolo paese nella provincia di Varese, mozzate, con un marito assente di cui non conosce la sorte, con una famiglia distrutta. Alla fine della guerra, ed è la storia che in realtà mi piace in assoluto di più raccontare, la famiglia si ricomporrà miracolosamente. Mio nonno farà rientro dalla Svizzera e si ricongiungerà con la famiglia. Io chiudo il libro con un episodio che secondo me è esemplare, anche se lo è senza la retorica dell'eroismo. Mia nonna, lo scrivo nel libro, era una donna normalissima, non era una eroina, non era una santa, era una donna con i suoi pregi e i suoi difetti. Ma mia nonna fa una cosa straordinaria che mi ha sempre colpito e commosso e ha fatto riflettere. La nonna Emma raccontava che nei giorni immediatamente successivi alla liberazione, al 25 aprile, a mozzate, arrivò una camionetta con giovani partigiani di dubbia identità e provenienza e fede politica che entrarono nel comune di mozzate, prelevarono il segretario comunale, che certamente era un uomo implicato con il regime appena caduto, lo condussero nella piazza del paese perché volevano giustiziarlo. Una prova di giustizia sommaria, di vendetta politica. Quando la nonna venne a sapere quello che stava avvenendo non pensò un attimo al da farsi. Uscì di casa con una scopa in mano, raggiunse questo manipolo, si presentò, presentò le sue credenziali, disse io sono la figlia di Eugenio Damiani, martire antifascista, sono la sorella di Mario Damiani, martire antifascista, sono la sorella di Alberto Damiani, uno dei massimi dirigenti del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia. E chiedo, vi chiedo che cosa state facendo, vi chiedo di presentarmi le vostre credenziali, vi chiedo di presentarmi un atto di un tribunale che condanni quest'uomo. Quest'uomo non si era macchiato nei confronti della nonna di nessun particolare crimine, era certamente un uomo, era certamente un fascista, ma era uno dei tanti, dei milioni di italiani che avevano in qualche modo convissuto con il regime. Questi giovani sbandati, di fronte all'evidenza di non avere alcuna credenziale nelle loro mani, si ritirano. La nonna salva il segretario comunale di Mozzate. Alla mia domanda, ma nonna come hai fatto? Una donna che aveva perso il padre, il fratello, gli amici dell'infanzia e della giovinezza, che aveva patito il dolore e l'umiliazione della persecuzione razziale, che aveva visto il marito obbligato a abbandonare la famiglia e il proprio paese d'adozione. Come fu possibile che questa donna non cedesse all'istinto della vendetta? Perché nella mia domanda, confesso, aleggiava un dubbio, io sarei stato capace di un atteggiamento simile. E mia nonna, con estrema semplicità e senza far ricorso a grandi elucubrazioni filosofiche, mi disse, mi rispose, ma io cos'altro potevo fare? E dico, ma insomma, nonna, avresti potuto cedere, cedere ai sentimenti, cedere al rancore, cedere alla rabbia. E la nonna mi diede una risposta straordinaria che mi fa riflettere costantemente. Mi disse, ma no, io non potevo cedere, perché se avessi ceduto a quei sentimenti, io sarei stata uguale a loro. Questa risposta mi ha guidato nella stesura di questo libro. Ve lo mostro ancora. È un libretto breve, è una lettura veloce, è una lettura nella quale ho cercato di raccontare la storia di questa famiglia, intrecciandola però anche alla storia di quegli anni. Perché il mio obiettivo non è tanto quello di raccontare la storia di una famiglia, perché come questa, come la mia famiglia, ce ne sono tantissime altre che meriterebbero di essere raccontate, ma è quella di osservare la grande storia dal buco della serratura di una storia familiare, intrecciando e alternando quadri di storia familiare a quadri di storia generale. Perché il mio obiettivo, in fondo, alla fine, è quello di far riflettere i ragazzi e le ragazze e anche di trasmettere informazioni. Informazioni su cosa è stato il fascismo, sulle ragioni che hanno condotto l'Italia alla deriva fascista, di come il fascismo sia stato un'ideologia, un regime di morte, sopraffazione, di guerra, di come la vita, l'esperienza esistenziale di milioni di persone, di milioni di famiglie, sia stata attraversata da quella grande storia. E ciascuno ha dato a quella sfida la propria risposta. Io ho voluto raccontare la risposta che un nucleo familiare, che avrebbe potuto cercare di sopravvivere semplicemente, invece ha cercato e ha scelto di vivere e quindi di resistere alla barbarie. Grazie a tutti, un saluto.